mi state scrivendo in tantissimi e vedo che anche da telefonate messaggi c'è un po di confusione quindi credo che sia utile fare questo video molte persone non hanno chiaro qual è il procedimento elettorale che cos'è un assessore che cos'è un consigliere che cos'è quindi facciamo un po un punto zero e vediamo di aiutare tutti coloro che mi seguono nella comprensione del procedimento elettorale le elezioni regionali che ci saranno il prossimo 17 e 18 novembre e vi ricordo che il 17 sono tutto il giorno mi sembra dalle 7 alle 23 il 18 invece sono solo dalla mattina quindi alle 7 credo fino alle 15 poi dopo vi linko vi posto gli orari esatti ricontrollate li mi raccomando e si votano due cose si vota il presidente candidato presidente di regione e si vota invece per l'assemblea legislativa che è composta da 50 consiglieri regionali ok quindi un solo presidente e 50 consiglieri regionali diciamo che il presidente è il governatore ok e poi c'è il parlamentino regionale che sono 50 consiglieri detto questo i consiglieri non sono assessori ok per chiarire a tutti quelli che mi hanno fatto queste domande il gli assessori sono personalità individuate poi dal presidente di regione sulla base di tutta una serie di criteri di esperienza di tecnica eventualmente in campo politico anche in base al numero di preferenze che si ottengono eccetera eccetera insomma ci sono tutte le logiche ma diciamo l'assessore poi decide gli assessori sono decisi dal presidente di regione eletto invece i consiglieri regionali sono coloro che siedono in assemblea legislativa ok quindi assessori e consiglieri sono due cose distinte per chi non l'avesse chiaro come meccanismo quindi io sono candidato al consiglio regionale quindi tra virgolette il parlamentino l'assemblea legislativa regionale ok delle migliori detto questo come si vota si può votare un po in tutti i modi congiunto disgiunto perché me l'avete chiesto in tanti perché ci sono ancora tante persone che purtroppo sentono questa questa impossibilità di come dire buttare il cuore gettano il cuore all'interno ostacolo e sanno che vogliono un cambiamento ma sono assolutamente costernati dall'idea di non avere quel quel luogo sicuro di cui si lamentano in tantissimi scompresi quelli che mi dicono questa cosa però sentono come una cosa insorrontabile ora è possibile fare entrambe le cose per per votare me bisogna mettere una croce sul simbolo elena lista di elena golini io sono votabile unicamente nella circoscrizione della provincia di bologna quindi in tutto il territorio provinciale di bologna e si può votare un'altra preferenza per un candidato di sesso femminile della stessa lista ok poi vi linko anche il video di istruzione della regione che avevo già condiviso ma ve lo rimetto nei commenti la e poi si fa la croce di norma sul candidato che io sostengo cioè elena ugolini se uno però proprio non ce la fa che vuole per forza fare altro può mettere ovviamente la croce su un altro candidato presidente in questo modo esprime il cosiddetto voto disgiunto ok però per votare me è comunque importante fare la croce sul simbolo e scrivere pieralli nel nella prima riga ok e poi eventualmente un secondo candidato se volete farlo di sesso femminile vi linkerò anche la lista delle colleghe di lista che sono presenti nella provincia di bologna e detto questo è chiaro che chi si attende da me la possibilità di portare cambiamenti eccetera deve riflettere su questa cosa che ovviamente se tu fai il voto congiunto cioè dai forza completa sia il presidente che poi deciderà chi sono gli assessori e quindi darà diciamo una visione di un certo tipo che è più la mia chiaramente se invece fai il voto disgiunto stai dicendo a me cioè mi vuoi male come dire e mi dici sì se andasse come vuoi vuol dire che io andrei a fare l'opposizione cosa che chiaramente dipende ovviamente da quante persone hanno votato in tutta la regione in che modo hanno votato però se ti aspetti poi dando il voto disgiunto di ottenere molti più dei cambiamenti delle cose che io dico che io propongo non è detto che tu mi stia dando la stessa forza che invece sarebbe necessaria per operare questi cambiamenti però ogni voto è legittimo ogni scelta è legittima per cui come dire tutti i voti sono da rispettarsi in ogni caso quindi ovviamente li rispetto pienamente detto questo fammi sapere nei commenti se ci sono dubbi domande questioni io linkerò nei commenti i video che la regione ha pubblicato di youtube dove dove puoi andare a vedere le tutte le modalità le possibilità di voto e ecco l'importante è avere chiari che gli assessori sono una cosa i consiglieri sono un'altra il presidente un'altra ancora ok quindi qui diciamo cerchiamo di aver fatto un po di chiarezza i tanti dubbi che tante persone mi stanno mi stanno ponendo grazie e buona serata condividi magari questo video lascia un like in modo che anche gli algoritmi aiutino altre persone a vederli ciao 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 ciao